Siciliana che dice il termine scientifico mestruazione, ne pare male, ne abbiamo già inventato mille sinonimi, io li ho sentiti tutti, c'ho ospiti, ma che devono tutta la casa stasera, c'ho il marchese, bene magari tu, c'ho le mie cose, ma perché io non ne posso sapere le mie? Aspetto le mie istruzioni, ma la più bella a mare è Giovanella, andiamo a fare il bagno, non posso, io li mi ascerincia, anche te stai non lasciando la casa, che poi voglio dire, questo pudore nei confronti di questa parola è superfluo, perché ci sono delle pubblicità, avete visto le pubblicità? Pare che tutta l'Italia soffre di mestruazione, l'ines assorbente con le ali, petalo blu, senza ali, senza petali, solo blu, ora c'è l'ines e... Non solo se ho da lì lo microscopio, ci vedi che ci sono fragoloni, lamboni, margherite, orchidee, e poi la protagonista della nostra pubblicità, Giovanella, quando si mette in linea, eh, cangerà così e così, se non va in balessa, va a cavallo, va in motocicletta, torna da cavallo, se non va in piscina, va con gli amici, se non va a ballare a discoteca, tornerà a discoteca, e si sente fresca, asciutta, tranquilla e sicura, ma ricco, è stato 25 anni senza fare niente, sta scatenando queste 5 anni, cosa taglia? S'è stata coltata 5 anni, no, l'ines e c'è, io non ho scatenato,